Ciao a tutti, siamo qui nella redazione di Bookblog con il professor Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Le faremo alcune domande. Va bene, vi darò alcune risposte. Bene. Gli studenti italiani sono al 38esimo posto nella classifica europea per le conoscenze scolastiche. Lei, da professore di logica, che cosa ne pensa? Mi sembra difficile, ci sono così tanti paesi nella comunità europea, mi sa che forse siamo fuori classifica. Hanno fatto un sondaggio su 57 paesi. Sono 57 paesi, allora non siamo poi così malmessi, siamo nell'ultimo terzo, ma non proprio gli ultimi. Ma a parte gli scherzi, certo le cose vanno male, perché soprattutto in certe materie, che in particolare è quella di cui mi interesso io, cioè la matematica, andiamo malissimo. Soprattutto poi quando si fa il paragone con gli stati fuori della comunità europea. Noi così come gli americani, fra l'altro, finiamo agli ultimi posti. Questo vuol dire che bisogna correre ai ripari. Evidentemente non si studia la matematica, non la si capisce, se la si capisce non la si ricorda. Qualcosa bisogna fare. Come bisogna fare? Noi cerchiamo di fare, io ormai sono in pensione, quindi posso soltanto guardare il cadavere che passa vicino a me seduto sul fiume. Però credo che bisogna cercare di insegnare la matematica e le scienze più in generale, ovviamente, in una maniera diversa, renderla attraente, svecchiare i programmi, cambiare i metodi di insegnamento, cercare di trovare connessioni con tutto il resto della cultura, dall'arte alla letteratura, alla filosofia e così via. Tutto questo lo si sta facendo, infatti in matematica, per esempio, molte cose sono cambiate. Negli ultimi anni le iscrizioni, che erano cadute proprio a picco. Qualche anno fa c'era addirittura un iscritto all'Università di Siena, uno, dopodiché non ce n'è più nessuno, non ci può essere metà iscritto o tre quarti iscritto. Adesso invece sono aumentate il 50% negli ultimi due anni. Il che vuol dire che forse qualche cosa è successo, abbiamo fatto festival di matematica, per esempio libri di divulgazione, teatri, un po' di tutto, però bisogna che lo facciano tutti, non soltanto qualcuno. Senza cambiare argomento parliamo ancora della fuga dei cervelli. Lei ha insegnato, presumo abbia studiato anche all'estero. Sì, negli Stati Uniti, ma molto tempo fa, tra il 78 e l'80. Due anni negli Stati Uniti, un anno urbano nell'Illinois e l'altro anno in California, UCLA. E poi sono andato anche due anni in Unione Sovietica, però, perché in realtà nella matematica non ci sono barriere, non ci sono confini, quindi l'Unione Sovietica era all'avanguardia della matematica, così come lo erano gli Stati Uniti. Quindi ho fatto quattro anni all'estero, poi ho insegnato per 18 anni praticamente a New York, nello Stato di New York, però non ho mai fatto fuga proprio, solo le fuitine, come si direbbe in Sicilia, nel senso che poi tornavo sempre dal primo amore. Andavo d'estate, a volte per un anno o due, però senza mai trasferirmi definitivamente. Capisco comunque quelli che lo fanno invece in maniera in pianta stabile, perché è chiaro che le condizioni qui sono molto difficili, ci sono pochi incentivi, per esempio pochi posti di lavoro. Per quanto io parlo della ricerca, ovviamente, di coloro che poi vorrebbero insegnare e fare ricerca in università. L'università è un pachiderma, non dico agonizzante, ma sicuramente non in buona salute. E sembra che il governo attuale, la ministra attuale, l'unica cosa che abbia in testa sia quello di tagliare i fondi, far diventare l'università autofinanziata, che vuol dire ovviamente privilegiare le ricerche applicate e condannare a morte quelle teoriche. Quindi capisco che coloro che vogliono scappare, proprio perché vogliono studiare magari altro, se ne vadano. Io passo la parola. Grazie. Io volevo chiedere, ho visto che lei è stato per un po' di tempo in politica e poi ha abbandonato questa carriera e ho letto anche che ha definito il nostro sistema democratico inadatto ai nostri tempi, qualcosa che non segue i nostri tempi, non riesce a stare al passo con noi. Volevo sapere perché. Dunque, io ho fatto il politico per pochissimo tempo, per qualche mese, perché quando si fece il nuovo PD, Beltroni mi chiese di entrare insieme a tanti altri e io ho pensato che poiché si faceva un partito nuovo, forse c'era la possibilità di intervenire direttamente sulla costruzione di questo partito. Ci sono stati un paio di mesi, poi ho visto che continuava a essere invece un vecchio partito semplicemente agghindato con un altro nome e soprattutto pieno di clericali, di gente come l'ex ministro Fioroni e tutti gli ex democristiani, quindi li ho salutati prima delle elezioni e lì è finita la mia attività politica. Quello che dicevi sulla democrazia, in realtà la democrazia noi l'abbiamo ormai divinizzata, perché sembra che sia quello che contraddistingue la civiltà nei confronti dell'inciviltà, chi non ha il sistema democratico occidentale è un fuoricasta e così, però ci dimentichiamo che la democrazia è nata nel Settecento, era forse adeguata per quei tempi, ma oggi pensare con un mondo che si muove così velocemente, in cui succedono cataclismi ma anche economici per esempio politici da un giorno all'altro, pensare che uno vada a votare una volta ogni cinque anni, dia una delega in bianco totale su tutto a qualcuno che poi rimane lì per cinque anni, ma è veramente un'assurdità, faccio due esempi, uno è il 2001, in cui si votò, tutti e due gli esempi non è colpa mia, sono riferiti al governo Berlusconi, ma questo è, no, nel senso che è proprio storicamente, nel 2001 si votò il governo Berlusconi dell'epoca, il terzo credo che fosse, e dopo pochi mesi arrivò l'11 settembre e questo significò ovviamente prendere decisioni tipo la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, la lotta al terrorismo e così via, ma questo non c'era stato nessun mandato da parte dell'elettorato nei confronti, in quel caso del governo Berlusconi ma di qualunque altro governo, in America il governo di Bush, in Inghilterra di quello di Blair, ora è possibile che noi nel 2000, nel terzo millennio siamo ancora ancorati a questo fatto? In quel caso lì bisognava ovvio rifare le elezioni oppure bisognava fare un referendum sull'intervento ad esempio alla guerra, c'è stata una manifestazione di 100 milioni di persone al mondo contro la guerra, che però non potevano intervenire nella politica perché c'era questo modo per l'appunto di votare in bianco ogni cinque anni. Ultimo governo Berlusconi, idiem come sopra, di nuovo non per colpa mia, nel 2006 è stato eletto Berlusconi, però nel 2008, l'anno dopo è arrivata la crisi economica, una crisi economica che fa sì che si debbano spendere cifre enormi per salvare gli stati, l'ultimo la Grecia, ma prima c'è stato ovviamente l'Islanda, in America si sono dovute salvare le banche, di nuovo questo non era nei programmi di nessun partito, perché dobbiamo essere ancorati a queste cose? In questo mondo che cambia così velocemente dobbiamo avere dei rappresentanti che ci rappresentano per cinque anni, senza che possiamo cambiare le nostre opinioni, mi sembra che abbiamo anche i mezzi tecnici per poterlo fare in maniera molto più veloce, non togliere la rappresentanza, darla a qualcun altro, quindi è semplicemente quello, è un vecchio sistema che però non è più adatto ai tempi moderni. Quindi lei qual è la soluzione che propone una giusta mediazione tra discipline umanistiche e scienze matematiche? Lei prima ha definito le discipline umanistiche distaccate, quindi qual è il... Forse scherzato? No, no, in realtà io credo che ci sia, che in realtà l'umanesimo e la scienza siano come i due emisferi del cervello, ci sono tutti e due, se uno volesse usarne uno solo farebbe malissimo perché non userebbe l'altra metà, però nessuno dei due deve prevalere. Mentre invece siamo al salone del libro, basta guardare l'elenco degli interventi che hanno a che fare con la scienza e l'elenco degli interventi che hanno a che fare con la letteratura e si scopre che sono circa 970 contro 20, perché questa è la proporzione. Allora non è il 50% qua, c'è un certo squilibrio, bisogna non esagerare, io non credo che soltanto perché uno scrive un romanzo bisogna dargli l'attenzione, i giornali sono pieni di recensioni, di romanzi, di interviste letterati eccetera. I letterati fanno il loro lavoro, però anche gli scienziati lo fanno e soprattutto è un lavoro oggettivo, quando uno scienziato scopre qualche cosa, quello è una verità, non è un'invenzione, una storia che mi sono inventato e che racconto a qualcuno. Invece purtroppo nelle televisioni, nei media in generale c'è una grande attenzione per l'umanesimo e pochissima attenzione per la scienza, quindi è quello che vorrei ribaltare. Comunque mi andrebbe bene se per qualche anno la letteratura ricevesse la stessa attenzione che riceve la scienza adesso, di modo da equilibrare, quindi facciamo per 10-20 anni 30 interventi di letteratura e 970 di scienza al Salone, dopodiché cominciamo a farne 500 e 500.